Una legge di bilancio che dovrà supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese. È la linea indicata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Una riunione che ha permesso al Governo un primo confronto in vista della manovra che sarà presentata nei prossimi giorni. Meloni ha ricordato come la congiuntura si stia facendo più difficile, a partire dal rallentamento dell'economia tedesca che si ripercuote in tutta Europa e quindi le risorse disponibili devono essere usate con la massima attenzione. Ogni Ministero dovrà verificare nel dettaglio le risorse attualmente spese e le misure attualmente finanziate, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e reperire ulteriori risorse. La legge di bilancio dovrebbe contenere misure per circa 30 miliardi, tenendo conto dei vincoli europei che potrebbero anche cambiare in caso di riforma del patto di stabilità. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Sottolineo che la Commissione ha già provveduto a pubblicare una sorta di guidance prevedendo l'ipotesi che non si riesca a provare un nuovo patto entro la fine dell'anno, che forse è l'ipotesi più probabile. Noi cercheremo di rispettare gli obiettivi con un principio di responsabilità, tenendo conto delle circostanze e dei fattori rilevanti, come li chiamano in Europa, che si sono verificati, che si stanno verificando nel 2023 e di cui daremo puntualmente conto in occasione della NATEF che presenteremo in Parlamento a settembre.